Lo spaghettino è una pasta meravigliosa che si cuoce facilmente in 6-7 minuti. Noi ora la stiamo cuocendo nell'acqua delle vongole unitamente a dell'acqua appena salata in un'emulsione di olio, aglio, prezzemolo e peperoncino. I vongole stanno qua, le abbiamo già aperte. Alla fine saranno aggiunte. Siamo quasi a fine cottura. Il capolavoro è nel piatto. Ora qualcuno ci mette anche un giro di pepe, ma io ho messo già il peperoncino e mi basta così. La frondolella di prezzemolo ci vuole. Abbiamo fatto un bel giro e ora ce lo mangiamo. A tutti buon appetito e guardate che lo spaghettino è una grande pasta. Non ho più nessuno spaghettino. Magna da villa! Ciao! 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 Ciao!